Ehi la ciurma, io sono Mazzatessi e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Ci eravamo lasciati con questa missione del Barghest, questo enorme cane nero che sta ammazzando gente in giro. Teoricamente ci sono delle tracce fresche e ci dice che possiamo trovarlo e affrontarlo. Ah già, non è proprio dietro l'angolo, però... Allora, ne abbiamo due, ecco, potete fuori, ma... La cosa comoda è che Nefi adesso ha una lancia che fa un sacco di danni alle bestie. Per cui, allora... Avvicinarci, ci diceva che non passa oltre al... Perchè non può muoversi? La Slyfer non può muoversi, ok... Ehm... 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 Ok, ottimo. Ok, ottimo. Ehm... 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 Questo non è occupato, questo non è preoccupato, questo non è occupato, questo non è occupato. Low security Ma Sì Mi preparo con la camera Accampamento Vediamo se è posizionata Sì, va benissimo qua Non rompe le scatole nessuno Proprio un po' in mezzo alla scena Unica cosa, sì, un po' in mezzo alla scena Diciamo che La spostiamo Al volo Un po' più in là Così ci metto una vita però Facciamo E sparargli Che ne so, 880 870 850 800 750 Vada così dai Mi piace un po' di più Un po' meno in mezzo alle scatole Allora Detto questo Noi abbiamo ora da curare Un botto di gente Per fortuna abbiamo due Healer Ma Non so se avremo abbastanza Medicina per curare tutti Allora Allora Gunnar rischia di Peggiorare Per cui andiamo a curarlo Tra l'altro Tra l'altro andrei a fare quelle più gravi con lei che ha healing al 3 Per cui dovrebbe curare per cui dovrebbe curare più forte Lui ha heal Anche lui ha heal al 3 Per cui conviene forse che Samor che ce l'ha No anche lei ce l'ha al 3 Ok E facciamo di nuovo heal Alla gamba Ma mi sa che dobbiamo andare tutti con heal Allora Samor Facciamo Lui è già occupato in questo Turno Per cui andiamo su Ketil Quindi andiamo ancora su Ketil Stiamo finendo tutte le medicine del mondo E Ok Fully treated Questo è già Impegnato Andiamo quindi su questa Mostra Va bene E avremo bisogno anche di Morkant Assolutamente Per fortuna che abbiamo 3 Healer Così a meno velocizzano un po' il discorso Allora Una Due E qui lo farei dormire Per poi Curare qua Questo dovrebbe posto Questo posto Questo posto Questo Nell'ultimo shift Per cui Bunnar Guardi ce l'abbiamo Non abbiamo scouting Abbiamo 17 Vediamo cosa ci dice Nepia Ha degli spazi liberi Ed è È curata qua Quando conserva Va bene Allora Della carne va male Per cui la mettiamo Conservare Carne a tutti Già Però Della roba Va male Lo stesso E non so cosa dire Vabbè Nulla Faremo così Se va male Oh Ne abbiamo un sacco Per cui Non riusciamo a conservare Tutto Consumeremo Una Vagonata Di erba Di medicine E adesso Tutto a posto Allora Ah Cavolo Dei topi Ci hanno Fatto fuori Un po' di Proviste Però Vabbè Dai Stiamo Comunque Stiamo Abbastanza Spaviste Quello Passato Scopa Dappertutto Sta pivendo Va bene Tutti I gueriti Abbiamo Speso 50 Medicine E Siamo Scesi Di carne Perché Un po' Andata Male Ma Abbiamo Guardato 20 Razioni Comunque Ah no Avevano 29 Di carne Adesso Avevano 31 Quindi Siamo Messi Benissimo Detto Questo Direi Che Possiamo Tornare Anche Eofo Week Allora E andiamo Con i Soliti Ketil Neffia Rosqua Ok Dovremmo Sistemare Dovremmo Fare un po' Di erbe Un po' Di medicina Ma Vabbè Adesso Vediamo Magari Esplorando La città Troviamo Delle cose Interessanti Prego Ah tra l'altro Aspettate Torniamo Alla Camera Normale No Non è che ci sia Così tanto Fango Qua Per quello A cui Stai Abituato Tu Allora Abbiamo Esplorato Comunque Parecchie Parti Della città Adesso Vedrò Un attimino Di pulire Tutto E ci vediamo Più tardi Non sono andato Tanto lontano Ragazzi E appena Poco più In su Ho trovato Questo Gruppo Di persone Che ha Triggerato Un evento Per cui Siamo di nuovo Qua Allora Allora Sono fuori Una fatteria Alcuni Sono molto Armati Altre Sembra Che abbiano Preso Quello Che avevano Sottomano Tutti Sono di sicuro Qui Per Sangue Sentiamo Cosa si Dicono Dall'interno Ci sono Delle Grida Disperate Per favore Siamo cristiani Tutti noi Siamo come voi Sappiamo Che avete lasciato Poi Quelle Offerte Disgustose All'albero Degli amanti Non eravamo Noi Lo giuro Qual è Il valore Di una Promessa Da Un Atrio Senza Dio Ti prego Sì Ragionevole Aprete la Porta Affrontate La giustizia Del Signore Pensi Che se Aiutiamo I Contadini Ci aiuteranno Se Interferiamo Cadremo In guai Noi stessi Mi dispiacerebbe Comunque Dare una Bella Lezione A queste Persone Ho paura Che ci Danno dei guai Davvero Sti affari Cioè Sti tizi Se Andiamo Se Interveniamo Così A caso Scusate Passo Solo qua Un momento Poi Ci Pensiamo In un altro Istante Magari Dopo Ragazzi Piccola cosa Che ho notato Adesso che siamo Ritornati qua C'è La nostra Nave Per cui Possiamo Direttamente Partire Con la Nave Da Qua E C'è Anche Il resto Da Nostra Ciurma Svala Sveina Edis Saur Edis Morkant Uppa Uppa No Uppa Non è Dinos Sigh Sigh No No Questo Non è Dinos Penso di Trovato Un bug Perché Sono Andato Dove C'era Prima Il Cane E C'è Apparso Un oggetto Luminoso Che Appunto Dice Loot Container Character Beast Missing Ok Sembra Non aver rotto Niente Speriamo Ok Ho esplorato Tutto Questa È Una Delle Persone Che voleva Parlare Per cui Sono andato Vedere Di cosa Cosa Si tratta Guarda Non ti conosco Abbastanza Per offrire Parecchio Ah Mi sa che è saltato Qualcosa Quando togliere La pausa Torna Quando Le persone Conoceranno Il tuo nome O almeno Non si chiuderanno La chiave Quando passerà E parleremo Quando sarò Amico del re Ok Va bene Però Qua c'erano Anche altre cose Tipo Qua c'è una casa In cui si può entrare A massimo Due Possono entrare Un' Pia jazda la ipra Non si sa mai Ma ok non succede niente oh tg dai please ah tra l'altro sono ancora piccino piccino da dialogo vabbè ci sta adesso faremo un altro dialogo ancora poi potrebbe anche essere un'idea quello di tenermi piccino non che io patisca allora più in su c'è la cattedrale ma la farei dopo c'era anche una casa ecco qua e poi c'era una persona più in là ecco questa kire vediamo sempre con loro due vediamo un po' non si può parlare con uno schifo non si può solo rubare quindi lo lascerei così tanto comunque abbiamo preso abbastanza scorte di roba in giro per cui non dovremmo averne problemi in questo momento di cose cioè avremmo forse bisogno poi di un po' di erba da convertire in medicina erbe mediche insomma dai ok allora prima della cattedrale proverei a parlare con questa tizia qua ok ok you've lost 10 valuables successo ho perso 20 valuables ok ti facendo di avvicinarti è una donna molto bella nei suoi primi vent'anni è vestita molto bene con dei vestiti che sono degni di una regina non hai dubbi che gli uomini ucciderebbero per lei e qualcosa ti fa pensare che probabilmente qualcuno l'ha già fatto è una cosa rara vedere dei visitatori vestiti in questo modo per le strade osserva un attimo il tuo gruppo con un gruppo come questo sei una sorta di re? non del tutto re sono mazzetese sono thegni di schierna la curiosità la trae la tua voce parli in una strana maniera sai dirmi qualcosa nel vostro linguaggio? la quarta andrei con la quarta di tutte le cose strane che ho incontrato qua potresti essere la più strana sorride civettosa ed è molto eccitata è molto bello sembra comunque una sorta di maledizione degli atei Kire sono vedova del mercante Baldred sono onorata di incontrare ha una gold dig forse sei vicino imperceptibilmente di un passo a te non voglio impormi su un uomo del tuo grado ma mi affascini mi consideresti di darmi il tuo aiuto? parli a tre dipende dalla natura dell'accordo mio marito era un grande uomo non siamo stati sposati a lungo però quando è morto e vivo ancora per nella disperazione della sua morte della sua perdita ok cambia un po' di voce da quando è venuto a mancare ho conosciuto molti che mi hanno fatto il filo una parte di quelli li ho allontanati alcuni ho pensato fossero degni della mia attenzione ho concesso i miei favori a tre eroi in passato ma mi hanno tutti abbandonato alla fine sorride e sposta un ciuffo di capelli dal volto ho già la sua mano a sinistra lievemente sul tupetto se riusciresti a trovarli e riclamare i miei doni guadagnerai la mia gratitudine eterna e sarai ricompensato riccamente lo prometto cosi sono questi regoli che vuoi indietro qua è neoforwick elfin il cavaliere elfin ha ancora un guanto bianco ascarborug il suo poeta ha un anello e poi ai lontano nord la capitale dei pitti il mio orso ha ancora il corno di voden che gli ho dato dopo aver conosciuto la sua crudeltà se riusciresti a recuperare questi oggetti ti farò un favore uno che vale molto di più dei tre combinati farei la prima mi ricorderò della tua offerta ma non posso promettere niente aspetterò con ansia il tuo ritorno misterioso straniero ok ho un po' paura di questa tizia perché è una seduttrice ammaliatrice prima di entrare in cattedrale che succede se prima di entrare in cattedrale oh che bella cerimonia assolutamente sì lo è stato assolutamente ho applaudito le parole di tuo figlio Coleman raramente sono mosso a lacrime ma lui è riuscito a farcene grazie a entrambi possa questo matrimonio portare prosperità a entrambe le nostre case per anni in onore dei nuovi sposi ci sarà una grande festa a casa nostra un grande banchetto andiamo a bere fino che il sole non sorge le persone sembrano ricche a me sembra una buona opportunità potremmo seguirli e aspettare che hanno avuto un paio di drink poi possiamo controllare quanto saranno ricchi se vogliamo ristabilire il nostro nome negli occhi dei nativi queste azioni non saranno di sicuro a nostro favore è un'idea interessante potremmo fare potremmo occuparci facilmente di un mare di uomini ubriachi di civili ubriachi questi si sono inglicciati li faccio passare dai ok andate possiamo entrare adesso vediamo che succede qua tra l'altro si sta facendo parecchio tardi per cui direi che forse conviene anche interrompere qua vedere l'ultimo personaggio poi dopo qua c'è tutta roba da rubare oh questa icona la riconosco del Cristo tanto creatore tipo non occide snisi nomine mio cidet easy nomine mio allora c'è gente qua c'è gente questo cos'è un libro per terra buttano i libri per terra se non accoglio ah cammina lentamente qua dentro ok ah l'ho 19 valvia poi così allora sembra un vescovo quello che comprete ah un arresto tutto là ah no sono tutti disposti così in giro ah e c'è un'icona di un Cristo con San Giovanni la Madonna simbolo della Trinità qua c'è Nefia ma io vorrei vedere quella stanza ah ok me la me la switcha là ah ci sono dei soldi qua appoggiati prendiamo quelli è buono non c'è altro c'è gente che non ci parla vabbè usciamo allora dalla cattedrale ma probabilmente succederà qualcosa qua alla cattedrale perché sono tutti disposti là in ordine come se fosse non lo so magari può anche capitare che ci stia il nostro battesimo magari possiamo battezzarci cambiare religione non so sarebbe molto particolare effettivamente e neanche troppo pinto storicamente perché c'era un periodo di conversione di massa all'epoca pacifici o meno no nulla non dobbiamo andare di là dobbiamo andare alla mercante l'ultimo che ci rimane è questa è Atacat direi direi però che possiamo fare anche nel prossimo episodio dai dove siete bom direi che per questo episodio è tutto vi mettete lasciare un mi piace un commento qua sotto iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti